Il 24 di giugno va in asta nel Lazio un busto a marmoreo, è il busto del doge Giovanni II Corner. È una pregevole opera d'arte attribuita a Bonazza che è stato uno dei più grandi scultori tra la fine del 600 e i primi del 700 e la pregevolezza la si può apprezzare semplicemente guardando i tratti del volto. Entra nel vivo la raccolta fondi promossa da Veneti Net per riportare in Veneto il busto marmoreo di Giovanni II Corner, 111esimo doge della Repubblica di Venezia, in carica dal 1709 al 1722, tra le figure di spicco dell'ultimo periodo della Serenissima. Il doge fu ritratto anche in un famoso dipinto di Gian Battista Tiepolo ed è ricordato soprattutto perché nel suo dogado, sotto il suo dogado, Venezia riuscì a difendere vittoriosamente l'isola di Corfu dall'ultimo grande attacco degli ottomani. Quindi una guerra vittoriosa per la quale Vivaldi scrive la Judita Triunfans, un famoso oratorio militare notissimo, che fa parte integrante dunque della grande storia veneziana e veneta. Prima di riapparire a Viterbo, dove sarà battuto all'asta il 24 giugno, il busto del doge si trovava a Cacorner di San Polo. Riportarlo a Venezia, secondo l'associazione Veneti Net, ha un significato profondo che va oltre il suo valore storico e artistico. È la riaffermazione di un'identità collettiva che guarda il futuro forte della conoscenza del proprio passato. Non c'è alcuna mitologia folcloristica attorno alla figura del doge. È una grande istituzione all'interno di una grande architettura costituzionale, il cui simbolo, in questo caso, il doge Giovanni Corner, potrebbe tornare a Venezia. Donate a Veneti Net, al numero di IBAN, di conto corrente che vi viene indicato, per far sì che questo sogno diventi realtà. Sarà donato a una istituzione importante come la regione Veneto.